La scoperta compiuta da Paolo Mattie nel 1964 in Siria Occidentale è uno di quei momenti che ha rivoluzionato la conoscenza del mondo antico. In particolar modo la messa in luce di uno straordinario palazzo, qual è il Palazzo Reale G, con i suoi archivi e le sue monumentalità è stato utile per meglio conoscere il mondo mesopotamico. L'intervista di oggi sarà dedicata a questi temi, in particolar modo al rapporto tra la materialità e la religiosità. Nella seconda parte l'intervista spazierà su temi più generali, come il rapporto tra Oriente e Occidente sia nell'ambito della spiritualità che nella storia dell'arte. Naturalmente sulla cultura materiale noi tutti archeologi diciamo che si può costruire la storia in un certo modo non meno che sui documenti scritti. E questo è sicuramente vero. Io non sono tuttavia di quegli archeologi che arrivino a, virgolette, disprezzare i documenti scritti per valorizzare la cultura materiale. Certamente tuttavia il rapporto tra cultura materiale e religione è certamente fortissimo, nel senso che, a mio avviso, effettivamente la cultura materiale è una base documentaria per la ricostruzione della religione, delle ideologie, gli aspetti filosofici della cultura umana, probabilmente non meno che i testi scritti. E tuttavia c'è un problema, io credo, che l'interpretazione della cultura materiale si presta, per dire così, a molte maggiori ambiguità. Anche i testi, naturalmente, devono essere sottoposti a forte critica, non possono essere considerati un valore oggettivo, per dire così. Ma certamente la cultura materiale è in un certo modo molto più equivoca rispetto a una ricostruzione di aspetti di spiritualità. Cultura materiale, religione e società, secondo me nei nostri studi, io credo, praticamente tutti, di qualunque archeologia, non sono ancora messi sullo stesso piano, cioè sono privilegiate le associazioni tra cultura materiale e religione e molto meno si considerano gli aspetti sociali. Mentre certamente la prospettiva più, non vorrei dire più corretta, in tutte le metodologie secondo me è ingiusto parlare di correttezza, ma più fruttuosa è che questi tre aspetti vengano considerati complessivamente tutte e tre. Io credo che il valore degli oggetti della cultura materiale sia, vorrei dire, intrinsecamente fortissimo, cioè non è qualche cosa come un valore aggiunto, qualche cosa che soltanto specifica meglio un'interpretazione di aspetti della spiritualità, di qualunque genere, appunto dalla religiosità, all'ideologia, ad aspetti filosofici, ma credo che il comportamento umano che traspare dagli oggetti proprio, cioè dalla materialità delle cose, sia di fatto una esplicazione di qualche cosa di molto sostanziale. Quindi mi sembra che non possa essere considerata qualche cosa in più. Si potrebbe pensare tuttavia che la cultura materiale per la ricostruzione storica non incida sul nucleo fondamentale di religiosità, filosofia e ideologie. E questo probabilmente è vero, ma nelle realizzazioni io credo invece che le testimonianze degli oggetti per la ricostruzione di un archeologo sono estremamente significative di quelle che erano appunto le realizzazioni effettive della spiritualità di qualunque cultura. Io sono profondamente contrario ad ogni concezione che io normalmente definisco teleologica della spiritualità, ma anche delle conquiste artistiche di qualunque aspetto della cultura umana. In questo senso, nel senso che da studioso dei mondi delle grandi civiltà cosiddette preclassiche del Vicino Oriente, considero un gravissimo errore che facciamo quasi tutti, forse tutti, io compreso, di considerare delle realizzazioni delle grandi civiltà del Vicino Oriente antico come realizzazioni imperfette all'interno di un presunto processo di cui le realizzazioni avanzate, per non dire perfette, sono quelle della civiltà greca e romana. Questo apparentemente, forse detto in questo modo, può lasciare un poco sconcertati, ma basta pensare che tutto il sistema di educazione che noi chiamiamo secondaria delle nostre scuole dell'Occidente è fondato su questo. Nelle nostre scuole, ma credo in tutta Europa, si studiano certamente i fenici, gli egiziani, gli assiri rapidamente, ma perché si studiano? Perché sono soltanto la premessa, virgoletta, imperfetta della perfezione. Il codice da Murabi non è un codice di leggi, è vero. Quello che conta, che è vero, è il diritto romano. Il monoteismo etico dei profeti di Israele è la vera grande conquista dell'umanità e da questo poi succedono il cristianesimo e l'Islam. Il monoteismo di Amarna è uno, in Egitto, al tempo di Ameno Fisquarto, il famoso faraone eretico, è un tentativo più che imperfetto e così si può andare avanti. Normalmente noi riteniamo e diciamo che una grande invenzione del mondo fenicio è naturalmente l'alfabeto, ma a ben guardare si studia questo alfabeto fenicio perché è un'invenzione rilevante, certo, ma del tutto imperfetta perché per esempio non usava le vocali. Allora chi le ha usate le vocali? Naturalmente i greci. Allora questa visione teleologica per cui noi dobbiamo studiare queste civiltà per vedere soltanto come un lento progresso verso qualche cosa che è perfetto, che nel diritto, nella religione, nell'arte, il rilievo storico a Siro è interessante, ma il grande rilievo storico è quello di Traiano, del maestro di Traiano in età imperiale romana. Io a questa ottica sono profondamente contrario per un motivo molto semplice che è quello che vorrei rapidamente definire della ricchezza della diversità culturale. Io spesso ricordo che quando ero giovane rimasi colpito da una... ero molto giovane e la casa, credo la casa editrice da Telza pubblicò un librino molto interessante in cui su ogni pagina, su due colonne, c'erano delle parti del che la tradizione attribuiva a discorsi del Buddha e delle parti di discorsi di Gesù. C'erano delle impressionanti analogie estremamente interessanti e io rimasi molto colpito, come credo tutti, e questo noi pensiamo sia che meraviglia. Le grandi religioni del pianeta hanno poi delle convergenze, possono anche odiarsi, ma hanno delle convergenze perché questi sono i grandi valori dell'umanità. Tutto questo è in parte vero, ma questo è il modo dell'Occidente di utilizzare, deformandolo, una religione, una cultura, una qualunque conquista culturale, deformandola profondamente perché ciò che è veramente arricchente del buddismo, sia chiaro che io non sono un buddista, ovviamente, e sono un acceso sostanzialmente, sostenitore dei valori dell'Europa occidentale, per dirla con tutta chiarezza, ma è una banalizzazione e una falsificazione del buddismo prendere soltanto quegli aspetti che sono interessanti o sono forti, sono belli, soltanto perché somigliano al discorso della montagna di Gesù. Quello che è per noi arricchente, senza che uno diventi buddista, è vedere nel suo complesso, nella sua struttura, come noi diciamo oggi, il buddismo, è quello che è originale, è quello che conoscitivamente ci arricchisce. La diversità e la verità culturale è una straordinaria ricchezza che noi occidentali usualmente demoliamo prendendo soltanto e valorizzando soltanto quegli aspetti che di fatto ci sono familiari e che non ci arricchiscono affatto, perché se tanto siamo convinti che noi siamo alla sommità di ogni conquista al massimo bene è inutile che guardiamo le imperfezioni e se uno guarda le strutture di queste presunte imperfezioni religiose come quella del buddismo si accorge naturalmente che è un orizzonte completamente diverso. Non è un motivo per diventare buddista ma è un motivo per guardare, io dico sempre che noi diciamo dobbiamo essere tolleranti verso la diversità, noi dobbiamo essere ammiratori della diversità anche senza per questo diventare membri della diversità, cioè fautori della diversità, credenti nella diversità. Platone diceva che l'arte egiziana era mirabile perché fissa da diecimila anni. Erodoto diceva che quando uno va in Egitto resta sbalordito dalla monumentalità e dagli aspetti giganteschi, è tutto verissimo, un turista moderno che va in Egitto, magari non lo sa proprio esattamente che Platone e Erodoto pensassero e dicessero questo, ma da questo è soggiocato, va bene? Questo per dire che noi siamo abituati a vedere naturalmente sempre tutto in una forma evoluzionistica verso ciò che è sommo, ma su questo le cose sono assolutamente chiare e sicure. Quando i marmi di Lord Elgin arrivarono a Londra, il Parlamento britannico invitò un professore della scuola della scuola del British Museum di scultura chiedendogli che cosa ne pensava di questi famosissimi marmi di Fidia ma soprattutto di come tenerli e se era ragionevole tenerli in questo modo così. La sua risposta è straordinaria al Parlamento britannico fu la seguente i marmi di Lord Elgin sono il capolavoro assoluto e assolutamente insuperabile dell'arte dell'umanità e questi devono essere sempre visti da tutti i nostri allievi perché solo lì si può avere una vera ispirazione per l'arte contemporanea. quando appunto poi naturalmente furono esposti ci vuole del tempo i marmi di Lord Elgin al British Museum con una gradazione che anche adesso è tipica uno prima vede i rilievi assiri e poi arriva a vedere i marmi di Lord Elgin quindi c'è una sorta di sviluppo topografico nel museo prima si vedono delle cose imperfette poi si vede la massima insuperabile perfezione quando gli artisti occidentali degli ultimi tre decadi dell'Ottocento potevano vedere tutto questo il risultato fu nel 1906 che Picasso fece delle opere che erano il completo totale rovesciamento definitivo diciamo praticamente per tutta l'arte del Novecento dell'affermazione che l'arte occidentale e in particolare quella naturalmente del rinascimento toscano e olandese era l'apice dell'arte tutto venne completamente rinnegato cioè le de Moselle d'Avignon sono la negazione totale diciamo in un certo modo sistematica quel quadro rimase non vedibile per circa 6-7 anni credo perché si capiva che aveva un impatto più che rivoluzionario eretico tale da non poter essere accettato cioè nella storia si è verificato che vedere le opere di tutto il resto del mondo in maniera sempre più ampia ha comportato quella che senz'altro secondo me si può considerare la fine della tradizione occidentale classica nell'arte di tutto Grazie a tutti.